Mi trovo all'incrocio di via Polesine con Corso Italia e poi proseguendo ancora via Picardi. Uno snodo, un crocevia già quanto a proprio sicurezza stradale abbastanza incerto e pericoloso. Ma la situazione diventa estremamente critica se si considera che c'è l'assoluta assenza della segnaletica orizzontale. Vedete, a terra non c'è più nulla. Un tempo, forse decine di anni fa, c'erano le strisce pedonali completamente cancellate, c'erano altri segnali, guardate se non sto attento vengo anche travolto, guardate qui non c'è segnaletica orizzontale e quindi immaginate un po' i rischi che si corrono, macchine che vengono da Corso Italia e girano per via Polesine, macchine che vengono da via Polesine e girano per Corso Italia o addirittura proseguono dritto per via Picardi o poi svoltano ancora a sinistra verso Corso Italia per poi prendere via Alemagna-Grecia. Guardate qui proprio in presa diretta, vi sto facendo vedere i rischi. E a terra, lo vedete in presa diretta, a terra, prego l'operatore di seguirmi, vedete? A terra non c'è nulla, dico nulla, guardate qui altre macchine, sembra quasi l'autoscontro, vedete voi a terra qualche traccia di segnaletica? La vedete? Io non la vedo, c'è solo asfalto, guardate, asfalto, 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 segnaletica, zero. E allora, caro Assessore alla Polizia Municipale, caro Sindaco, che sicurezza voi date, quale sicurezza voi offrite ai cittadini? Qui si verificano puntualmente incidenti e i vigili urbani possono dimostrare i referti, i loro interventi, possono tranquillamente comprovare quello che io sto affermando. Già il mio è un concetto di per sé logico, perché una strada così trafficata, incasinata, con mille rivoli, con mille snodi, con macchine che girano a destra, a sinistra, vanno dritto, un casino infernale, e non vi degnate di mettere un minimo di segnaletica orizzontale? Quattro strisce, la segnaletica, quanto costa? Ciracci, Assessore alla Polizia Municipale, Comandante Matichecchia, Comandante, lei deve intervenire, lei è il capo della Polizia Municipale, qui ci sono dei rischi, lei deve intervenire, Comandante, non so più come dirglielo. Massimo il rispetto per lei, per la sua professionalità, per la sua serietà, ma qui è una situazione insostenibile. E ora basta, glielo chiedo, Comandante, glielo sto dicendo da consigliere comunale. Lo dico a lei, Comandante, e lo dico a lei, Assessore alla Polizia Municipale, Cosimo Ciraci. Cosa aspettate? Che ci scappi il morto? Che qualcuno, già gli incidenti ci sono stati, e ci vuole tanto, un'amministrazione che sperpera, che scia l'acqua da naro pubblico, con il 6GP, 7 milioni e mezzo, e non ha poche centinaia di euro per mettere quattro strisce a terra. Ma quanto cazzo ci vuole? Quanto cazzo ci vuole? E scusatemi, guardate, e questa sarebbe una città civile. Questa sarebbe una città civile. Queste immagini recano un'immagine di vergogna alla città di Taranto e recano anche un'immagine di vergogna al vostro operato, perché non si opera in questo modo. Qui è a rischio l'incolumità, la pubblica incolumità dei cittadini. E non si scherza. Capito, Comandante? Capito, Cosimo Ciraci, Assessore alla Polizia Municipale? Capito, Sindaco Melucci? E basta! Queste sono cose minime, non dovrei neanche dirle!